Chi paga il notaio quando vendo casa? Ciao un saluto da Andrea Rocco. Quando vendi casa l'onorario del notaio e tutte le spese per acquistare casa sono pagate dall'acquirente. Quindi è lui che potrà scegliere il suo notaio di fiducia. Un consiglio per evitarti un viaggio in aereo per raggiungere lo studio del notaio scelto dall'acquirente e non sei una persona tanto dinamica o semplicemente non in grado di spostarti così lontano puoi chiedere al tuo compratore di specificare il luogo dell'ufficio notarile prima di concludere un accordo. Se hai altre domande contattami oppure veniamo a trovare in agenzia. Grazie per la visione!